What the? Ah! Ah! Alcuna marata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Quest'oggi siamo in un video un po' particolare che volevamo già da fare da tanto tempo Siamo con i Retro Players in full praticamente Salve ragazzi! Bella ragazzi! Manuel Ma, Manuel E' incredibile come Manuel sia nei live e sia nei video collaborazione non ci sia mai E questa è una cosa molto particolare, grazie Manuel, grazie Ma che cosa? E io metterò Che? Devi salutare Oh bella per tutti Bella per tutti, ciao cari Ma che stavamo registrando? Ma che davvero? Che scendiamo? Mappa aperta, chiusa, che vogliamo fare? Non ne mette una che poi Ciccio va de mazza e te spigna in acqua No, è uguale perché tanto li bara, c'è i Mega Omini di Super Overpower Io scelgo la mappa aperta Aperta? Dai facciamo aperta Non lo so, poi sto di a cazzo Aperta ci sarà gente che vuole un'acqua Ma vabbè dai, prendine una a caso A caso, dai a caso, quella che capita capita No, lo coglio, coglio Questa è tutta la formazione di Vermi Bastardi de Sanza Allora, voi sappiate che di solito Quando giochiamo a questo gioco Io e Fracker ci facciamo la guerra fra noi due Poi arriva Sanza con i suoi uomini E distrugge tutto Di più c'è Manuel che è un rincoglionito Ora voi ci vedrete in diverse angolazioni del video E ognuno di noi avrà il suo proprio colore Per esempio Net Inside avrà il quadro verde Eccetera, eccetera, eccetera Adesso tocca a me tanto pagro, naga Io non ho visto, ma da che colore sono i miei? Aspettate che vedo, me sa gialli Sì, i miei sono gialli I miei sono rossi, rosa Perché Manuel si sta appuntando Ma sempre i miei, ma guarda un pupazzo Non puoi farmi nulla È vero, perché c'è un pupazzo? No, come c'è? Complimenti a Manuel Complimenti Che grande generale che è Manuel Complimenti, sei un grande generale Veramente, complimenti Perché a me Ah, vediamo Fracker Non potete notare come sembra quello dei Mythbusters Eh, l'ho fatti a posta Esatto Guardate, oh Fracker Guarda Prepuzio, dov'è? Guarda Prepuzio No, non lo fare, non lo fare Dai Sì, sì, sì Uccidi Prepuzio Uccidi Prepuzio Da subito, eh Io lo dico Ecco No Ma che... Dai ragazzi Ragazzi, ma che cosa stiamo facendo? Che cosa stiamo facendo, ragazzi? Ma dai Ma io con chi me la prendo? Attenzione Guarda che c'è vicino all'accendino Attenzione Guarda che c'è vicino all'accendino Attenzione Che c'è vicino all'accendino? Ecco, ecco L'accendino esplode Ma che c'è vicino all'accendino? I believe I can fly Ah, Fracker, sai che non volevo... Praticamente Potevo fassurare Fracker, lo sai che io non volevo andare contro di te Ma c'era solo lui Cioè nel senso Adesso tocca a me Che c'è vicino all'accendino? Allora, questo è l'omino overpower di Disansha praticamente Ah, sì È questo piccoletto, il bastardo Che neanche si vede Il gianco che salta dappertutto, quanto l'odio Esatto Guardalo, guarda quanto sei morto Non c'è neanche il nome sopra Talmente tanto è baggato sto coso No, non è vero Ah no, perché forse quando lo usa non c'è il nome Che poi sai, Fracker Volendo, potevo fare anche un'altra cosa su un lomino di Sansha Vedi che c'ho poi i mini No, non ho massato a me ho pollice Ha fatto le scurigine Ma quello è vestito tipo l'omino dei cosi Guardalo Guardalo Esatto Perché vai da Dimon? Non lo so, fai una strage Che ti ha fatto Dimon? Numo Guarda come sa Ma no Guarda, guarda, guarda Guarda tu, ragazza, sad Ma guarda Mutato sad Ma guarda, di Mon Cons ans Signori 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 Vai Sacco Fai lo schifo Lamello Io oserei dire Che con una dinamite Lo uccidi Timon Oh Mettili Metti vicina Il dinamite Vicino a Sme Ti fai fuori I tuoi Fai così Che fai fuori Lui bravo perfetto grande ma perchè ma magari ti vengo in bocca o scappa che è meglio oddio si no guarda l'uomo pollicione che culo di merda guarda che culo l'uomo pollicione guardalo ma che cos'è tipo quando fai al mare che c'è la sabbia sotto l'acqua è sul bagnasciuga è sul bagnasciuga davvero che sto a far bagno e sa ride fra che dove sei guarda quanto capuccione quanto è attraente che fino a quello che viene fatte messa sul cazzo di gioco no occhio franca che mi rende movimento a sto gioco che io lascio a questo no ho no 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 così no così no oh mio dio di ragazzo dijories romana parato al aria letto il 93 ma visto quanto sa proprio the road voglia rallentino questa cosa ciccio va bene provvederò l'uomo pollicione fa una finaccia no no te prego io sono ancora libito dalla scena prima vieni qua omopollicione vieni prima che hai fatto tua mia e io già che ci sto mi vado a rimbugare che mi sembra una grandissima questa è stata un grande colpo io sento buccia di bruciare un grande colpo non so se la lampada ora breve nel riguardo di salsa troverete lui avvolto tra le fiamme che registra con l'aurora poi ora voglio vedere il prepuzio che fa questa lumaca bastarda questo è un verme quello è una sarsiccia è una sarsiccia ascolto toccato a me mi ero distratto un attimo sento veramente puzza di bruciata vediamo mattina la mazza grognata questo ma perché potrebbe colpire in due appunto dai è certo facciamo volare pomba vai addio pomba fuga nel nell'alto dei cieli ma sempre fuga sì io non mi vendicherei con quello schifoso nano che c'è vicino ecco pincotallo pollo fa volare prepuzio da calcola quello quello sopra è tipo un boss manu li ha ammazzato esatto è il boss dei boss il boss delle salsicci io ma prenderei col lumacone poi assolutamente assolutamente guardate guardatelo è guardate che cosa c'è cammino a vedere se è tutto apposta guarda visto che non tocca a me arrivo proprio in un millesimo di secondo perché mi stanno vedere su serio ma tu sei veramente una cosa incredibile ma quello è grosso è normale che non vuole ho capito c'ho provato io percola questo lo davo proprio per morto già dai ok sembra tutto a posto sembra non lo so sembra potrà poco dovrò ripitturare le pareti devi volare lì fracker vola con il comitore c'è tanto non ti riesce più il trick come prima a parte non è che mi deve riuscire io posso diretti no dai non la da io no è sì addio pre buzzi o mio dio questa sì questa è una gran mossa per il mio vincolo una gran mossa signora 168 ma è proprio giuvo a fondo vai io vi porterò con me nella tomba come affrono ieri mi distruggerò tutti intanto guardo ma perché tocca sempre agli altri è perché temoroni i vermi esatto attenzione sto bacione letto no dai c'è ma sprechi veramente una mazza da baseball per uno piccolo guarda quello con cento di vita tranquillo non uso la mazza da baseball ma è povero sto migliore lo scricciolo ma è giusto ma te ne voglia di menaglie ma non essere esatto io mi metto qua sono allibito dal vostro cuore effetto c'era un altro la guarda non lo vedevo sotto all'accendino ma perché è piccolissimo guardalo è cagotto oh mio dio qui viene fuori qualcosa di epico che sta muovendo fra che non è calma perché vedere ammazzare sacco e ammazzare pisellone scusate cioè siamo a casa dai per telefono insieme tipo l'uoto sincronizzato hanno fatto il tuffo quelli muoiono facili e quelli muoiono facili no ma guarda manuel sono la minaccia meno meno minaccia direi che se spari su in alto becchi e non lo puoi vincere adesso potete vedere come cominciano le ecco dritto per dritto ma che cosa stai facendo ma non funziona è un allocco invece funziona ascoltate le tattiche del generale sanse mannaggia voi dovete capire che manuel gli fa quello che dice sanse si 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 cosa dice lui la fa si ma hai toccato pincopallo pollo non va bene esatto ma dai ciccio come sta là sotto sono loro che si fanno le alleante ma non è vero ma non mi sembra proprio dove va ma voglio capire dove va ancora attenzione e calma ho usato il coso ma non si aperto il paracadute manco coso come si chiama a quale è quello che tu vuoi? taricone, ti è morto taricone per l'altro ragazzi qui faccio c'è proprio battuta e cattive per l'altro no scusa taricone, io bene pure se sei morto aspettate eh ciccio che ci prova signori no ciccio non ci prova ragazzi guardate che meraviglia di tiro che vi faccio ah la vuoi proprio tirare la bombetta dentro il buco non ce la fa, non ce la fa non ce la fa ce la faccio non ce la può fare rimbarzella, rimbarzella vedi indannata non ce l'hai fatta comunque che è arrivata non ce l'hai fatta vabbè comunque c'è entrata là dentro ma no ma perchè io devo riguardarmi il video per capire come è uscita quella bomba da lì dentro a rimbarzare no no te prega te prega te prega io non notara fatevi un bel bagnetto hai visto il bastardo di Sansa io sono la minazza ma tappi a costanza no no guarda che c'è ciccio dall'altra parte che con un razzo lo becchi lo fai buttare in acqua guarda che c'è ciccio guarda che c'è ciccio se tu becchi il barile lui viene catapultato in acqua se invece becchi me non ammazzi nessuno che ho fatto che ho fatto non ce l'ha e ora ho parole sulla sinistra sinistra becca ciccio c'ha il barile no no ammazza quella 22 becca ciccio allora signori tirai una fucilata per vedere l'esecuzione del signor Sansa c'hai 20 secondi il barile l'esecuzione sul signor che ti è oh mio dio ha spaccato anche il tutto quanto ma c'è l'altro hit ma perchè ma perchè sei andato giù c'è proprio un coglione mano ma no ma che fai da ammazzi il tolla mi frega che cazzo becca il barile becca il dritto ce la facevi ma no non ho parole ha fatto tipo kamikaze un uomo un uomo un uomo un uomo guarda ha fatto un casino sono allibito non so cosa è successo in questo tour tu eh? vi giuro mo ti spacca il culo dei hai giusto mi sembra giustissimo ma c'è la ciccio la sotto che è furbita si e beh mo c'è la c'è sempre ciccio la sotto col barile che cazzo gli lancio raga quanta vita c'ha? ah becola che è becola carbona sto strozzo c'è una merda vedi? vedi che hai salvato vedi che hai salvato vedi che hai salvato vedi che hai salvato hai visto? hai visto Manuel? devi ammazzare subito dove ammazzare subito cazzo col cuore con la freccia ma non lo vedete? allora qua mi devo inventare qualcosa mh ammazzate Manu cosa mi inventerò mai? no vaffaculo devi smettere di giocare sto gioco lo ho ah con calma eh con calma eh ma tappia costanza ma perchè tu ti con me? o sono l'unico con un verme? no pure Manu la cascata ha scendito raga e mori pure soffocato qua che c'è che ti piace? ma si siete delle merda siete delle merda siete siete proprio delle merda no no tocca a lui tocca ma l'altro mo ce l'ha con me tranquillo mo ce l'ha con me che merda che merda cinque chi? dove va? che fa? dove? ah ok ma se ne va? guardalo 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 e se lo prende con te forse ma fa velocissimo anche così ma attenzione ha fatto tutto quello che non si pensava e ora se lo renderà con fracca ma la forza attenzione la vendetta tremenda cosa stai a fa? vendetta vera signori ma che vuoi fare? ma che hai con quel cappelletto? te manda sulla mina te manda sulla mina ma che pezzo è merda oh mio dio ma così vola e infatti ma cosa? oh mio dio oh mio dio oh mio dio ah ah to 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 oh mio dio ma prendite la costanza cazzo magari aveva con il ciccio c'ha due arrivi ciccio c'ha il barile lì ci arrivi ci arrivi vai su piano piano ma no no non ti careretta vai su piano piano fai un salto all'indietro un salto all'indietro e betti ciccio col barile lo butti in acqua guardate dove va a finire con questo oggetto dai uno all'indietro ma che incontrollabile sono le tue maniche superalo e usa la mazza da baseball ma perchè? perchè cosa si uccide? che lo mandi in acqua perchè no? perchè si ok vai più avanti plof ma dai l'hai incastonato dai vabbè c'è un vero a testa si ma adesso posso sottolineare una cosa che Manuel sta vicino a quel fottuto barile davvero ma ne lo sai che il prossimo mio obiettivo sarei tu volerai insieme a vola nel cielo delle emozioni davvero che cazzo faccio cazzo 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 prendi sansa ma prendi sotto Manuel no? ma no ma perchè non devi a me a mano c'è manso io prendi sansa il bunker per far fuori ciccio che è quello che ha più vita ma occhio c'è acqua che non mi prendi mai no c'è l'acqua lo prendi lo prendi eh ma a me sa che sta appuntando su di dire padrizzo io pensavo fossimo amici ti ho anche regalato un fantastico una fantastica cosa per il compleanno e tu e tu mi ringrazio così no va bene e lo so ma non sapevo che fa ciccio con l'antibunker ma non beve non gli levo gli levo venti c'hai undici di vita e stai in buona lei vai l'ammazzare vai l'ammazzare vi odio allora allora vai ciccio se io faccio così eh e faccio così così lo viva beh oddio se riesco a fare una cosa del genere no tutti e due no scoppia su stanza no dai mi fa lo scoppia su stanza se conveniva prende bene sansa aspetta devo fa un miracolo no non va a radiocomandato così tanto oh no no per pochissimo veste cazzata per pochissimo per pochissimo e mi sono messo anche dentro l'acqua che sto affogando vai vai a spaccare vedete cosa hai com'è senza eh sicuro no guarda si bambunchera si bambunchera che cosa fa? che cosa fa? che cosa? che cosa? che cosa è? no te prego l'antibunker lentamente scende nooo 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 oh mio dio sono inattentabile per verme schifoso bastardo piccoletto oh mio dio ce l'hai il jetpack sono impenetrabile signori ce l'hai il jetpack sono impenetrabile fai fuori gli altri io ho undici di vita dai ma... nooo nooo ciao siete delle merde io ti ho risparmiato ti ho risparmiato il turno prima ma che... ma che fai risparmiare? ti ho tirato un coso sul gruppo hai capito senza? hai capito senza che amici? che c'hai? vabbè dai senza puoi guardare ciao fraker frenti un bastardo allora mmm sono molto indeciso muori muori che la sfiga 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 intanto adesso muori perchè te sei sempre l'unico stronzo che si bunkerà dentro i buchi ma che cosa? ma dove? in quale mondo? in quale universo? ok adesso non sei bunkerato da qualche parte ma mira cosa se vuoi prendere però che ha fatto senza così non lo prendi ha toffato ha toffato di nuovo ha toffato di nuovo nooo ma che sta da fare? ma state no no oh mio Dio ma muore si no non penso che culo che culo che culo ma dai 4 dei veri da tu non hai senso ma non è più culo di anima guarda Ciscio ma ammazza capito Ciscio è 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 capito ma che stai a fare? Ciscio è capito ma no no sai com'è? già mi immaginavo tipo la caduta epica oddio oh oddio 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 immagino manu manu l'acqua 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 no 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 dall'altra parte premi tab premi tab premi tab premi tab ok pop in su pop in su vai tira la cadena vai 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 tutti su vai sinistra ok lì vai vai con lo sciacquone ma perché bang cioè che ma perché poi era manuel quello col culo ma vabbè ma è normale lì c'è la la cucchietta si io ti affogavo mo cazzo come faccio qua gli lanci l'attacco aereo ah no l'hai lanciato già a me gli lanci l'acqua un'altra volta e non esce dalla cosa tanto prima che io muoia mi porto via manuel se non ci pensa no ma perché non lo posso prendere c'è la scatola scoppia che culo hai capito come cioè io glielo volevo tirarlo volevo uccidere che cazzo fa fa che cazzo fa fa e non lo so mi sto cercando inventa qualcosa ma non posso e niente devo dire a te a te eh devo dire a me non mi porterai la tomba la tomba no non muoio non muoio non mi fa volare via però però un po' di danno eh un po' di danno attenzione 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 i fracker ma che mi è rimasto proprio fracker vivo eh chi arriverà primo attenzione signori attenzione ma porco 2 mi sento uno spettatore involontario mamma mia salsa fatta ah la vediamo un po' eh sveglia da antiviria in cipresso ahahah ahahah sveglia da antiviria in cipresso ahahah ahahah guarda ciccio che se deve da sport a geox ahahah 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 ma non ti faccio ma non basta prendere con fracker attacco aereo attacco aereo attacco aereo attacco aereo attacco aereo dove cazzo era attacco ma non ci sono mine ma non le guardate dalla casa dall'altra parte no 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 clicca proprio su di lui su di lui ma danneggia fracca perché sennò dopo muori bastardo ma che vola vola lì sì dai magari non scoppia no siiii no ma son morto uguale ma son morto uguale però ha fatto puff a quale dice fracchia signori come vuoi morir guarda manu non so poco come devi dalla scendi giù dal buco no basta che t'attacchi con una cordicella te fai scendere muro che t'acchi con la corda e scendere buco non c'è l'acqua vedi c'è la terra di ma che se dice no 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 c'è terra controlla controlla vai tuffate guarda guarda è terra quella ne è acqua c'è è terra attento fracchia aiuto non scende no fracchia spintarella 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 proprio con l'umiliazione finale spintarella io lo sai che ce faccio con uno che stop tu che li come ti go che DO FOGLO ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahetta ah dai che hai vinto dunkfracker ma non ho sapato il più forte di tutti ah non se può sono libido sono Charlotte anch'io e moi mi ti am andare da dare perdite ho fatto un trick strabiliante ahahahahahaha senza tirare piatta letta non andata e come avete potuto vedere sicuramente loro parano di per certo hanno la loro marionetta manual quindi la cosa non va bene la cosa non va bene se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su commentate e condividete il nostro video al prossimo appuntamento con il vostro Ciccacamero89 ciao ok stop sono Ciccio Gamer se il video ti è piaciuto lascia il pollicione se no sei un corredo e se non lo lasci stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro oh yeah si